Un tratto di circa 20 metri del mura medievali della cinta di San Gimignano nel Senese è collassato oggi pomeriggio. Sul posto immediato l'intervento dei pompieri, del sindaco Giacomo Bassi e dei tecnici comunali, i quali hanno indicato una porzione crollata lunga 8 metri ed alta 6. L'area, lungo la camminata est, è stata delimitata ed interdetta al pubblico. Avvertita dell'accaduto anche la soprintendenza archeologica e solamente per precauzione sono intervenuti i cani alla ricerca di eventuali feriti sotto le macerie che però per fortuna non sono stati trovati. Sul posto anche il presidente della giunta regionale Enrico Rossi. Sentiamo Rossi. Interverremo, avevamo già messo 1 milione e 200 mila euro per recupero e manutenzione. Oggi proclameremo lo stato d'emergenza, se ci sarà bisogno faremo una verifica ora in comune, metteremo altre risorse. La soprintendenza ha dato la disponibilità ad un intervento di prima urgenza di 300 mila euro. Sempre i pompieri, come detto, hanno spiegato che il camminamento nel tratto interessato dal crollo era già stato interdetto al pubblico. La pioggia delle ultime settimane è ovviamente tra le possibili cause. Sentiamo adesso il sindaco di San Gimignano, Giacomo Bassi. Tanto per mettere in sicurezza la zona, per evitare che altri tratti crollino e quindi per consolidare il paramento rimasto in piedi. Poi opereremo per il recupero delle macerie, perché è comunque materiale originale che dovrà essere riutilizzato il più possibile e poi imposteremo un lavoro di ristrutturazione e di ricostruzione del muro, ovviamente a questo punto con tutte le accortezze perché ciò non accada né in quel punto né negli altri punti della cinta muraria.